E' in corso l'allenamento pomeridiano dei Rosso Blu qui al centro sportivo Pineta di Pinzolo dove la squadra sta trascorrendo queste giornate di ritiro precampionato. L'allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento di attivazione in palestra e alcuni torelli in campo, poi esercitazioni di possesso palle per finire una partitella a campo ridotto. Nel gruppo non sta lavorando Eric Pulgar che in seguito all'allenamento di ieri ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro e osserverà qualche giorno di allenamento differenziato.